Tra curiosità, ma è vero che quando giocavi con la primavera del Napoli hai avuto l'opportunità di fare delle partitelle con Maradona e hai fatto un'entrata abbastanza tosta su Maradona, tanto che un dirigente sportivo ti ha detto piano per favore che ce l'abbiamo ancora integro. Sì, è una cosa fortissima perché praticamente noi il giovedì facciamo la partita con la prima squadra e sai comunque ti trovavi Maradona di fronte e la paura era sempre quella di non fargli male perché poi facevi male Maradona e il giorno dopo la domenica non giocava. Eri finito, veniva fuori. Io su una palla entra in scivolata e presi la palla e da fuori mi senti Fabio, Fabio, Maradona, Maradona e io faccio ok 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 sai diventi proprio un accendente.